Ehi tu che stai guardando questo video, non fare proprio il no skin della situazione perchè lo so che vai nel negozio oggetti a scioppazzare come un matto infatti da oggi se ti va puoi supportarmi come creatore cliccando in basso a destra supporto un creatore hyper legit tutto minuscolo, tutto minuscolo e uguale una volta inserito il mio codice, clicca su accetta ed il gioco è fatto grazie mille a tutti quelli che lo faranno, vi lascio al video, buona visione Benvenuti ragazzi, benvenuti in questo video di Fortnite, continuiamo con le sfide dei 14 giorni di Fortnite io come sempre ragazzi, visto che so tutte le sfide che usciranno giorno dopo giorno sto registrando il video in anteprima, quindi le sfide che andrò a fare adesso ovviamente non me le conterà ma a voi si perchè il video verrà caricato alle 14.05 sul canale cioè alle 14 usciranno le sfide, alle 14.05 uscirà il video sul canale su come completare una determinata sfida quindi la sfida sarà effetto palleggi con una palla da spiaggia in diverse partite quindi a voi ve la conterà la sfida, a me no adesso perchè la sto facendo in anteprima ok ragazzi, quindi ora io vado su parco giochi e faccio vedere dove si trovano tutte le palle da spiaggia e come fare dei palleggi, che è facilissimo ragazzi, ci vediamo in partita ok boss, eccoci qua in partita, io sono già arrivato vicino alla prima palla che si trova a nord di Borgobislà così, cioè qua raga, sotto all'aereo, io lo chiamo aereo questo ragazzi questo oggettone qua gigante che ci fa volare lo chiamo aereo, anche se è una turbina comunque ragazzi, eccoci qua la palla gigante, non dovete fare altro che dargli capucciate vedete che la palla salta, dovete fare questo in diverse partite, cioè su 5 partite ragazzi vi daranno la schermata di caricamento come ricompensa potete trovare la palla gigante qua ragazzi, poi un'altra la potete trovare qua e l'ultima qua, però per farvi meglio l'idea di dove trovarle vi metterò i punti esatti su questa piccola parte di mappa qua, sotto a me a sinistra ok boys? quindi nulla ragazzi, video facilissimo, velocissimo io vi ringrazio per la visione, come sempre vi ricordo che se il video vi fosse stato aiuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, condividete il video con i vostri amici così aiutate anche loro a fare le sfide, io vi ringrazio ancora per la visione vi auguro una buona giornata, ci vediamo domani con un prossimo video Bella boys! Ciao! 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 Ciao!